Gli auguri di Natale di Fratelli d'Italia sono quest'anno particolarmente simbolici, c'è, come ogni anno, il presepe. Questo è il mio lavoro, uscire, questo è il mio lavoro. Tu uccidi? Sì. E il lavoro, dai, uccidetevi a me. Ma no, ma dai, ma non lascialo stare, dai. Perché non direi così, scusa? Non si fanno così. Non si minacciano le persone, ma perché siamo noi, siamo tranquilli. Io non minaccio, io ho il lavoro che sto dicendo. Sì, ma non ti avvicinare, perché non ti devi avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Io lo vengo. Sì, ma non ti avvicinare. No, ti vedi. Sì, ma tu perché mi vieni solo? Ascoltami. Andiamo, ascoltami. Andiamo, lascia questa. La faccio. Tranquillo. Vedi? Vuoi dire qualcosa? Tranquillo. Non minaccio, io ho il lavoro che sto dicendo. Sì, ma non ti avvicinare, perché non ti devi avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Io ho il lavoro. Sì, ma non ti avvicinare. Perché non ti avvicinare? Non ti devi. Sì, ma tu perché mi vieni solo? Vuoi che mi vieni solo? Devo stare dove hai c***o, mi parlo. Sì, ero uguale. Sì, ero uguale. Ma non devi andare a scelta alle persone. Allora? Stai dietro. Che stai? Stagli lontano e ci sono noi e ci posso venire qua. Sono una straniera. E ci posso venire qua. Sono una straniera. Che è stato facendo stressare questo straniero. Senza che te mi venga a rompere. Capito o no? Capito o no? Scusa, ma ascolta, ascolta. Ma tu sei... Io non parlo con noi. Non parli con noi. Non tocca le cose. Allora, fratello, vada. Dai, torna tu sei venuto. Perché non parli con noi? Dai, torna per là. Non lo vuole a parlare con te. E allora, torna per te sei venuto, dai. Quelli. Dai, regà. Per te, 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 te.